Non ci vedo! Non ci vedo! Sento le cose. Sai come le chiamano le qualità che hai? Sono duni. Quindi avvocato di giorno e giustiziere di notte. Come ci riesci? A volte facciamo cose al di fuori della legge. Non vedo più il fascino della città. Vedo solo pericoli ad ogni angolo. Hell's Kitchen deve morire prima di poter rinascere. Lei ci crede nel diavolo, padre? Il male fatto da un altro non ti rende buono. Tu mi hai mentito dal primo giorno, Matt! Devo essere l'uomo che serve alla città. Rispetto le sue convinzioni, il giustiziere che crede di poter cambiare le cose. Il mio scopo era rendere la mia città un posto migliore. Allora perché mi sento in colpa? Questo è positivo. È l'anima che spinge ad agire. Ti indica che... Che il tuo compito non è ancora finito.